Come riconoscere una setta? Ci sono delle caratteristiche, ci sono delle caratteristiche perché ci sono delle dinamiche che si creano nei gruppi, in particolare in gruppi che hanno un'idea forte in comune e soprattutto che hanno un leader comune, possono essere gruppi di natura diversa, quindi possono essere uniti da un punto di vista politico, religioso, spirituale, non hanno niente a che vedere con delle persone che si riuniscono perché hanno una passione in comune. La prima caratteristica è che non puoi leggere quello che vuoi, c'è solo una selezione di libri che puoi leggere, che sono i libri veramente fichi, i libri scritti dal maestro ma più in particolare scritti da alcune persone che il maestro identifica come grandi maestri spirituali che nel 99,9% dei casi ovviamente sono tutti uomini e devi leggere solo quei libri. Non sono libri che tu puoi leggere da solo ma devi leggere attraverso l'interpretazione di questo maestro, di questa figura perché da solo non li potresti capire, quindi quello che viene fatto è dire non leggere più tutta l'immondizia che hai letto fino adesso, leggi solo questi libri ma leggili piano piano, non te li leggere tutti, anche perché non puoi leggerne più di quanti ne legge e ne conosce il maestro, devi comunque rimanere a un livello più basso perché sei solo un allievo. Quindi quando vi trovate in un gruppo in cui vi si dice che dovete leggere solo certe cose, che dovete prendere solo da certe fonti, quello è sicuramente un gruppo che ha un minimo di dinamica settaria. Poi c'è il maestro, il maestro può essere una figura anche alla mano, anche affabile, qualcuno che si prende anche molto in giro, questo succede spessissimo, di solito i maestri, quelli contemporanei, si prendono in giro per farti sentire al sicuro, quindi non ti trovi davanti a qualcuno che immediatamente se la tira. Però questo qualcuno, di solito, è l'unico che ha il contatto con qualcosa di superiore. Questo succede in tutte le religioni, ma praticamente in tutte le situazioni settari, cioè tu senti, quanto essere umano, di essere sperduto e di trovarti in un universo che non conosci. E ha la necessità di trovare un contatto con qualcosa di divino. Quel maestro ce l'ha e di solito ti dice che tu probabilmente non ce l'avrai mai, quindi devi ascoltare quello che ti dice il maestro, perché il maestro sicuramente parla per bocca dello Spirito Santo. Quindi questa è un'altra caratteristica, cioè io ho il contatto con un'influenza superiore, tu non ce l'hai, quindi tu mi devi ascoltare. Ed è il mio contatto che io dico di avere che mi dà l'autorizzazione a dire e soprattutto a fare certe cose. Quindi c'è questa idea di trascendenza alla base, soprattutto nei gruppi spirituali, l'idea di una ricerca comune di trascendenza, che di solito però c'è la sensazione che si è bloccata. Cioè cose che da solo ti verrebbe facile fare, poi lì ti vengono molto più complicate. Immaginate delle persone che hanno la facilità ad avere delle esperienze di picco, delle esperienze non ordinari di coscienza, di cui oggi parla anche moltissimo la psicologia. Queste persone di solito quando entrano in una dinamica settaria devono per forza livellarsi sul livello del gruppo. Quindi una persona che aveva delle esperienze, delle emergenze spirituali, come le chiama Stanislav Grof, di solito nel gruppo smette di averle. Perché è come se quella cosa lì, quel tipo di energia venisse bloccata. Perché la trascendenza è un'ossessione di tutto il gruppo, ma se tutto il gruppo lo raggiungesse il gruppo non avrebbe bisogno di esistere. Perché chi ha davvero un contatto personale con qualcosa di superiore, fosse anche qualcosa di superiore dentro di sé, è una persona libera, è indipendente. Non ha bisogno di essere legato a un gruppo necessariamente, che non è una comunità, ma non ha bisogno di dipendere da qualcun altro. Il gruppo settario è un gruppo in cui invece tu devi dipendere da qualcun altro, perché da solo non ce la faresti. Quando ti trovi in una situazione in cui tu ti senti obbligato a starci, perché altrimenti che cosa faccio, perché altrimenti torno a essere sperduto nel mondo, allora di solito quella è una dinamica di dipendenza. È una dipendenza affettiva quando si ha a che fare già con una relazione amorosa, figuriamoci, quando si ha a che fare con relazioni di questo tipo. Anche perché nel gruppo tu devi dare, è identificabile come un gruppo settario, un gruppo in cui tu devi dare moltissimi soldi, ma quello di solito si sa, cioè comincia a puzzarti, se tu devi dare 4, 5, 600 euro al mese, comincia a dire, beh qua c'è qualcosa di strano. Magari giustificati in termini diversi, non tutta una stessa voce, ma giustificati come bisogna comprare questo, bisogna fare questo. Ma quando tu devi dare lavoro gratis, quella è una cosa diversa, perché in quel senso tu ti metti al servizio. È la sensazione che ti stai mettendo al servizio, però non è solo un servizio spesso. Cioè quando tu devi dare un lavoro gratis, che diventa una mole di lavoro consistente, e tanti gruppi fanno questo per evitare di chiederti soldi, perché sarebbe plateale, ti chiedono un lavoro gratis, quindi ti danno la sensazione che tu in realtà stai dando liberamente, come libera scelta, qualcosa che non ti costa niente, anzi ti fa piacere. Molto di questo lavoro è un lavoro di proselitismo, quindi è un lavoro che tu fai non solo come lavoro muscolare, ma fai anche questo, delle volte è un lavoro muscolare che non ha niente a che fare con la scuola, ma ha a che fare con esigenze personali del maestro, o di altri membri magari che nella gerarchia sono in grado molto elevato, ma ha a che fare anche col fare proselitismo verso gli altri, perché tu devi portare delle persone lì dentro. Per questo le sette possono essere anche lavorative, quindi può essere anche un modello piramidale quello della setta, non è necessariamente un modello religioso, ma anche nel modello piramidale che ha solo uno scopo lavorativo, di solito il maestro, la figura di riferimento viene idealizzata, viene idolatrata, e ha comunque un qualche carisma che sembra un carisma trascendente, cioè che trascende un livello ordinario, a cui tu vorresti arrivare, perché deve esserci l'ambizione di arrivarci, ma tanto non potrei arrivarci mai. Come non puoi leggere certi libri, man mano non puoi frequentare persone che non fanno parte di quel gruppo lì, questo succede in tantissimi gruppi diversi, ma anche quando hanno a che fare con delle cose, cioè semplicemente con un orientamento alimentare, un orientamento sessuale, un tipo di disciplina sportiva, perché sono delle persone dannate, perché non si salveranno, perché non ce la faranno mai. Ora, tutto il discorso legato alla trascendenza e alla salvezza è un discorso molto complesso da fare qui, però di solito nelle sette c'è sempre qualcosa che ha a che fare con la salvezza, cioè io sto qui, sono dipendente da questo gruppo, perché se non fossi in questo gruppo sarei spacciato come tutti gli altri. Invece questa è l'unica speranza di salvezza. In genere questi gruppi hanno una loro ritualità. Che cosa ti stuzzica di questa ritualità all'inizio? Cosa ti affascina? È qualcosa di simile a quello che Anne Arendt descrive rispetto al totalitarismo. Cioè qual è il motivo per cui il totalitarismo, per esempio il nazismo, ha attecchito così tanto in Germania? Perché è andato a captare il bisogno di tantissimi esseri umani che nella società di massa si sentivano sperduti. Invece un'idea forte alla base, una ritualità molto precisa, cioè un modo di fare le cose che ti dà la sensazione che fare quel piccolo gesto abbia un senso, quello affascina moltissimo. Ci affascina perché il nostro tempo ha perso la ritualità. Quindi tutto quello che ha a che fare non solo con il grande rito esoterico, ma anche semplicemente con un certo modo di fare le cose, un certo modo di mangiare, di pranzare, un certo modo di parlare con gli altri membri del gruppo, questa ritualità ci affascina moltissimo perché è una caratteristica che il nostro tempo ha perso. Per questo noi abbiamo l'idea che alcune sette siano delle sette che sono sempre esistite. Nella maggioranza dei casi sono sette che nascono, come abbiamo scritto in Tu non sei Dio, che nascono molto recentemente, che nascono proprio con l'avvento della società di massa. Quindi alcune caratteristiche non sono caratteristiche casuali, sono caratteristiche che colpiscono noi perché vanno a toccare alcuni punti deboli della società di massa. Cioè ci danno l'illusione di darci finalmente quello che abbiamo sempre cercato nel mondo e che il mondo non ci ha dato. Questo è uno dei motivi per cui tutti corriamo prima o poi il rischio di finire in una di queste sette, che come dicevo non è solo una sette esoterica, ma sono questi gruppi molto chiusi che ci danno l'idea di avere una base finalmente forte, una visione del mondo forte. E poi ci sono gli altri membri del gruppo, soprattutto i membri anziani. Questi membri anziani di solito sono terrificanti, nel senso sono probabilmente le peggiori persone che voi abbiate incontrato. Quindi da un certo punto di vista hanno una parte spirituale che sembra molto molto florida, dall'altro invece dal punto di vista umano sembrano delle persone veramente terribili. Quindi non vi sembreranno delle persone così tanto realizzate. Questo Gurdjieff lo chiamava doppia cristallizzazione. Cioè il fatto che è come se tu fossi dissociato. Cioè da una parte sembra una persona che ha fatto un percorso interiore, che può essere un percorso interiore autentico anche all'interno di questi gruppi così. Dall'altro invece a livello ordinario sei rimasto una persona, sei ancora più mediocre di quanto eri prima di entrare nel gruppo. Qualcuno appunto in un commento la definiva ipertrofia dell'ego all'interno di queste persone. Perché? Perché far parte di un gruppo del genere, e quindi sentirsi salvi in un mondo in cui invece tutti sono dannati, dà ovviamente un senso di arroganza e di onipotenza. È veramente qualcosa di simile a quello che accadde con il nazismo. Cioè dei ragazzini, che erano dei ragazzini tranquilli, cominciarono ad assumere un certo tipo di ritualità e divennero degli SS. Questo dava loro un senso di potere, un senso di forza, ma soprattutto un senso di potere, che poi li portava a dare ordini anche agli altri, che li portava a essere spietati, spregiudicati nei confronti degli altri. Anche se magari dentro di loro rimaneva una parte che voleva invece essere calda, essere affettuosa, comportarsi in maniera completamente diversa. Stare in un ambiente settario ti impedisce di far fiorire tutte le parti di te, perché dà spazio solo a una. Quindi questa ritualità diventa un'imitazione. Non è un vero rito, non è una vera ritualità, ma diventa un'imitazione dei gesti che vedi fare, per esempio, al maestro che diventa il tuo idolo, che diventa quello che vorresti essere tu e che non sei ancora diventato. Il rischio è quello di essere controllati, di essere dipendenti, di non potersi staccare, sia a livello psicologico, ma anche a livello pratico. Perché poi nelle sette c'è spesso l'abitudine di andare a vivere insieme, di avere i rapporti solo insieme, quindi tu che cosa fai? Te ne vai e rimani completamente solo nel mondo. Ma soprattutto ci sono delle parti dentro di te che sono state soffocate, e questo sempre perché c'era un altro essere umano che doveva dirigerti, che doveva controllarti per fatti suoi, per un suo tornaconto personale. E questo è molto pericoloso. È molto pericoloso quando, anziché cercare di ragionare con la tua testa, tu cominci a ragionare con la testa di un altro. Quindi accetti indiscriminatamente quello che pensa qualcuno, cominci a realizzarlo, cominci a cambiare tu. Quando c'è qualcosa che non ti quadra, sei sicuramente tu che sbagli. Lui, perché di solito è lui, non sbaglia mai. Questo è veramente terrificante. Cioè siamo tutti esseri umani, tutti sbagliamo. Qualcuno può avere un contatto, un contatto più facile con qualcosa che possiamo considerare divino, ma se quel contatto lo usa per controllarti, lo usa per farsi delegare un potere che solo tu dovresti avere su di te, quella probabilmente è una setta. Per cui, stiamo attenti.